Buon pomeriggio, allora vi faccio questo video breve perché voglio mostrarvi qualche novità che abbiamo pensato io e Rocco il Cocco, come sempre, perché io senza di Rocco non decido niente riguardo al sito, vedete che sto su Facebook, sto su YouTube, sto e basta, sono su Facebook e YouTube ma il mio sito è, e diventerà sempre di più nel tempo, l'epicentro di tutte le cose che faccio quindi veniteci sul sito liberogliannuzzi.com adesso vi faccio vedere un paio di novità, una in particolare molto molto interessante che ho pensato riguardo al sito, togliamo sto faccione di mezzo, lo mettiamo qua sopra, eccolo qua allora, questo è il mio sito, maestro liberogliannuzzi, intanto scrivetemi nei commenti ma questa scritta, maestro liberogliannuzzi, musica e chitarra per bambini, si legge sul vostro computer? perché siccome è bianco su giallo, ho paura che su non tutti i dispositivi sia ben leggibile quindi scrivetemi nei commenti, va bene, bando alle chiacchiere qual è la novità? È questa, il mio blog, ok? come vedete io ho messo qua dei tasti, belli in evidenza, che poi corrispondono alle voci del menu qua sopra ma comunque i tasti sono importanti perché anche sul cellulare li potete guardare e schiacciare comodamente come sempre la sezione cosa faccio è molto importante, quindi il tasto è più grande la sezione tutti i materiali anche è molto importante ma oggi vi voglio mostrare il blog che cos'è il blog? È il luogo nel quale io raccoglierò tutte le attività pubblicate ognuna, ogni attività che pubblico, l'ultima è quella del pulcino prima i fiori a primavera, prima gli animali nel bosco insomma ogni attività che vedrete su Facebook e su YouTube avrà un suo articolo dedicato all'interno del blog ve lo faccio vedere andiamo sul blog qui c'è una piccola presentazione del blog come vedete attività, video, materiali ma anche approfondimenti teorici a volte sono semplicemente degli articoli di pedagogia o di strategie didattiche qui c'è il link, bello in evidenza, per i materiali gratuiti per iscrivervi alla mia newsletter gratis e scaricare tanti PDF tra cui quelli delle attività che vedete qua sotto ma andiamo a vedere per esempio la settimana del pulcino vedete che ogni articoletto ha un suo trafiletto e ci cliccate sopra e vi si apre tutta la scheda c'è scritto di cosa si tratta in breve impariamo i giorni della settimana quale musica viene utilizzata in questo caso la settimana del pulcino ma altre attività avranno delle musiche classiche quindi qui sarà riportato il nome del brano e l'autore gli argomenti per chi lavora a scuola è molto importante sappiamo che questa attività possiamo collegarla agli argomenti del pulcino, dell'uovo ma anche della nascita, dello scorrere del tempo, della crescita quindi se stiamo trattando questi argomenti con i nostri bambini a scuola questa attività si può inserire all'interno del nostro percorso quali sono i destinatari quindi per quale fasce di età è pensata dopodiché trovate il video diario della lezione me in classe che la spiego ai bambini e le video diapositive queste non sempre ci saranno ma quando possibile ci sono le video diapositive cioè le immagini con la musica dopodiché qua sotto ci sono elencati i materiali che io ho preparato per questa attività e come fare ad ottenerli ogni attività prevede una scheda gratuita infatti c'è scritto la scheda di epilogo in maggio scarica le schede e alcuni materiali in più per poter fare l'attività al 100% delle sue possibilità come la faccio io e qui sotto è spiegato come si fa ad averlo alcuni vengono pubblicati sotto forma di libri altri invece possono essere ottenuti tramite una donazione e in altri metodi ancora ogni attività avrà spiegato qua sotto come fare ad ottenere i materiali relativi a quell'attività là questo vale per tutte le attività che ho pubblicato e che pubblicherò in futuro quindi torniamo indietro qua sopra ogni attività i fiori primavera, inverno del bosco, la danza dell'autunno il tamburo hanno questa scheda fatta in questo modo e poi ci sono anche articoli teorici più intelligenti con la musica i quattro filastri della didattica musicale insomma trovate tantissime cose quindi andate qui sul mio sito e cliccate sul blog oppure direttamente all'indirizzo liberoiannuzzi.com slash blog una cosa molto interessante che voglio segnalarvi vedete che qua sotto la presentazione c'è una piccola lente di ingrandimento questa è una gran figata perché? perché se ci clicco sopra e scrivo per esempio musica classica e mando invio più mi fa vedere tutti gli articoli nei quali io ho parlato di musica classica i fiori a primavera i quattro animali nel bosco la danza dell'autunno nella fattispecie queste appunto sono le tre attività che ho pubblicato fino ad ora che contemplano l'utilizzo della musica classica quindi grazie a questa funzione di ricerca potete selezionare le attività in base a quello che vi interessa musica classica body percussion movimento in base alle parole chiave che ho inserito all'interno dell'articolo adesso i post pubblicati sono 9 o 10 ma ne pubblicherò uno se non anche due ogni mese quindi tra un po' di mesi saranno parecchi allora per ricercare velocemente quello che vi serve qui avete la funzione ricerca quindi vi faccio vedere nuovamente come si fa ad arrivare al blog andate sull'home page liberogliannuzzi.com e qua sotto trovate il tasto il mio blog oppure nel menu cosa faccio blog ok? ma trovate il link a questo blog anche in altri punti adesso inutile ve lo faccio vedere perché tanto se lo cercate lo trovate qua poi saprete che in altri punti del mio sito troverete il link per andare al blog e in ogni video che pubblicherò su facebook e su youtube se è relativo a un'attività pubblicata nel blog trovate sotto il link guarda l'attività completa quindi questo penso sia molto interessante velocemente vi faccio vedere un'altra novità nella sezione tutti i materiali ho ampliato un pochettino la spiegazione dei miei materiali c'è il tasto per iscriversi alla newsletter c'è il collegamento al blog appunto perché nel blog ci sono le attività attività per le quali io ho pensato determinati materiali poi c'è una sezione dedicata ai libri che ho pubblicato e poi una sezione dedicata a come fare a ottenere tutti quanti i miei materiali tramite una piccola donazione quindi vi aspetto sul sito liberogliannuzzi.com ragazzi voi magari vedete i miei contenuti su youtube su facebook su pinterest dove pare fatemi mettere la fascia un po' più in mezzo ecco ma tenete presente che il sito è sempre il punto di riferimento centrale di tutto quello che faccio va bene? vi aspetto ragazzi buon divertimento con la musica e buon pomeriggio a tutti quanti